Sono Rocco Berardo e anch'io ascolto RDS, no questa non era, sono Rocco Berardo e anch'io ascolto Radio Italia, non era neanche questa, era Ciac3, sono Rocco Berardo, consigliere regionale del Lazio, partito radicale, gruppo Lista Bonino Pannella e vi invito tutti, tutti, tutti quanti seriamente, molto seriamente a iscrivervi all'Associazione Radicali Certi Diritti, bravi, fatelo anche voi.